Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Bene, bene. Cioè se vedi questo non è successo nulla tra me e FUB tranquilla. Più magari è un po' di robe estane. Tutto ok? Sì, sì. No, io purtroppo te l'ho portato FUB però mi dispiace. Perché? C'è un tavolo a un costo! Il cazzo l'hai pagato? Linfonodi, cosa ti devo dire? No! Linfonodi? Mamma che fiatella! Basta non è vera! Oddio! Oddio! Amo! 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 Ma che dolore! Dio! Vieni qua! Oddio Amo! Mi ho fatto un male! Oh! Mai 7-8, coglione! Ci siamo! Ma... Ma... Ma loro parlano pure assieme? Allora, una sotto la scrivania. Ci siamo! E l'altra sotto la legia di Alexia. Sì! Sì! VAMOS! Vai! Andiamo chat, vi leggo, vi leggo, vi leggo! Che freddo! Che freddo! Ma chi è marciato l'altra mura, regà? Un saluto! Oh! Ma tutto avesserato? Oh! Oh! Stavo rispondendo un attimo messo là! No, ma se... Lo facciamo un po' bruttoso! Alexi, fa tutto! Che paia! Ti faccio fare un pompino al massimo! Che freddo! Ti fa brucio! Oh! Se tocchi così fa... Mi devi toccare! Oh! Oh! Mi spaccate tutto! Ma che cazzo fate! Oh! Niente! Non ci posso fare! Aspettate! 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 Ma che c***o! È così qua! Oh! Stronzo! Ma non si possono limitare queste persone che fanno! Sì, no, le fanno di sottolineare! Grazie mille Gianni! Grazie mille Torto Antonio! Grazie mille! Scritti Giuliani! Facciamo una cosa! Ehm... Cazzo fa questo? Ehm... Lei che... Comunque mi ha accompagnato all'inizio del suo percorso! Del suo percorso! Non avevi bisogno perché non ti cadeva nessuno! Te li portavo a lei gli ospiti! Porta rispetto! C***o! Ehm... Poi mi sono sentito... C***o! Dai, caffino! E' un po' toccato all'inizio del suo percorso! Un po' toccato così! Dai! Vabbia! 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 Sfigato! Non piangere! Non piangere! Non piangere! Perfetto! 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 Si metta pure lì! Si metta pure lì! La sfida tanto è molto veloce questo round ragazzi! E' molto molto veloce! Allora! Chat per... Bravo sistemati! Per lei eh! E' un sì o no devo dire! Sì sì sì! Sì! Per me... E' un sì! Chat per voi! Aspettiamo! Prima di dare la risposta aspettiamo quello della chat! Ciò all'infuori gioco! Porca! Come fai? Fagli vedere il video! C'è il video! Sì! Ho fatto la intro pure! Bella rega! Non è di questo nuovo video! Oggi! No! A parte gli scherzi! Comunque! Aspetta! Valentina se riesci! Siamo veramente sul limite del fuori gioco! Riesci a tirare... Cioè! O a stringerla poco poco poco! O a tirare un bottone in su! Cioè basta che la tetta si vede! Perché è un po' eccito! Sinceramente! Sì! E' da destra! E' da destra! E' da destra! Ce ne abbiamo un'altra! Se voglio farci vedere anche un'altra! Vediamo l'ultima e dopo mi giustificerò in maniera ubriosa... Come fare te... Sì! Devi giustificare! Io sono entrato a casa e stavo dentro! Ma che so se si baci sul collo Attenzione Grazie mille che dovete venire a G5 E a termine davvero Che dico Alexi Comunque questa roba che lì sta dietro le quinte Ma aspetti che era col cappuccio manco come poi No Ma chi cazzo Ma sapete perché Sapete perché ero fuori dal Togvil da solo Hai una paura di essere rapinato ogni due secondi Ma se eri dentro con noi In una stessa privata In una stessa privata No comunque veramente No giuro Una porca Una porca Ok si Più babi Mamma mia lei Ma cerca subito Scrivile subito Fermi un attimo ragazzi occhio Guardate anche voi ti fareste passare Non c'è su insta Vai su tiktok Magari con la y Mi piace il cazzo stella Però qui non è bella come l'è Sono di questa cosa Si broma Sono rifatte Sì 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 Ma che culo Comunque Siria Ok vai Ma che Siria Fidati Giulia Ok Andiamo avanti No Mi Aspetta 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 prima di partire Lo si è visto Rifai Eh tre la tettona la prof con le tette più grandi in italia un applauso a una tetta mamma c'hai delle tette magiche sei uno te lo giuro ti leccherai tutti i capezzoli dall'inizio alla fine ti farai il giro circolare ma in maniera molto lenta perché devo stimolarti cosa? mi sembra che poi ci stimolo ma ti scoperei il buco del culo da dentro te lo metto dentro poi pom ti inizio a scoprire tutto vabbè la storia ok sei quanto tempo mi sei mancato cucciolino alza le mani 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 al Ma com'è il movimento? Com'è il movimento ragazzi? Si spammatelo, com'è il movimento? Guardiamolo! Spermi un attimo che c'è il bar di Gaia! C'è il bar di Gaia! Potrebbe avermi visto la minchia! Possiamo.. No, no raga! Non è se.. No, no raga! Ma ragazzi ma... E quando... No, minca! Così? Ma ti guarda davanti a me, fai così? Ma ci stai? Cioè, come se tu arrivi mi fai così, capito? Te lo guardo Oh! Non lo... CHD! 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 I don't listen to you! Raga, non l'ho barato, sono coperto, non l'ho barato, regà. Era per la suspense, mamma. Guardate la clip... Stiamo assieme, ma non ho... Fate i seri! Chat! Chat! Scam o non scam? Se è scam scrivete scam, se non è scam...